Distruggiamo un decoder digitale terrestre ok così siamo entrati all'interno in maniera più congrua ho espletato la funzione di di mero distruttore luca pagano il distruggitore è una meraviglia il mio tesoro ok adesso diventerà wireless da wireless a wireless wow poi mi serve questa usb ah si un'antenna in più può sempre servire si questo fa parte delle cose preferite dai gatti ubriachi si ok ah il condensatore è fondamentale per la pasta poi hai condensatori ok aspetta un ultimo saluto ah eccolo qua il ricevitore aspetta un po' ah però c'è il fotodiodo che è il fotodiodo però mi potrebbe servire c'è un fotoresistore cioè bisogna essere attivo però questi infrarossi quindi non lo potrei usare per quello che voglio io tipo ci puntavo il led vicino e chiudeva l'interruttore ma no allora per i poteri conferitovi aspetta ah ah ok va bene così l'ho riparato ultima cosa da aggiustare è il filtro ADSL mettiamo un po' in un filtro cosa giallo non c'è arriva fa minchia uuh quanta roba ehi ehi la pignetta di Natale minchia aspetta voglio sicurare che questo venga sistemato a dovere questa me la tengo mi può servire ok quindi diciamo oggi andiamo a analizzarmi la molto scrupolosa e attenta una quantità di cose ah ecco qua bene vedete con quanto scrupolo e attenzione vedete un po' ecco qua aspetta ma metto un po' più al centro dell'inquadratura vedete questo bell'ammucchiamento di sostanze cocktail offro io